Ben ritrovati, Saviano è un comune del Napoletano, poco più di 15 mila abitanti che andrà al voto il prossimo 11 giugno. Il sindaco uscente Carmine Sommese si ricandida. Ben ritrovato sindaco, grazie per la sua disponibilità. Partiamo proprio da questa sua scelta, perché ha deciso di continuare questo suo impegno? Io ho deciso di continuare questo impegno perché molte cose sono ancora incompiute e quindi il nostro territorio ha bisogno di una continuità assolutamente. Dopo questi 5 anni molte cose non si sono potute realizzare, il nostro programma è un poco incompiuto sostanzialmente, per mancanza di risorse e per la difficoltà di portare avanti dei progetti che sono sicuramente importanti per il nostro territorio. Non ultimo la risoluzione di un problema annoso che noi abbiamo su quest'area che è quello degli allagamenti. Questo paese è situato geograficamente un po' più in basso rispetto ad altri. Quindi subiamo durante le piogge intense, che sono cambiate negli ultimi anni con intensità vertiginosa nel momento in cui avvengono, abbiamo la difficoltà che il centro e buona parte del territorio si allaga. Noi abbiamo fatto un'opera importantissima con i fondi europei e con la regione Campania, che ancora non risolve completamente la problematica perché risolto tutti i problemi del territorio dobbiamo affrontare i problemi del collettore principale che dipende dalla Gori e che non dipende solo dalla Gori poi ma dalla regione Campania perché tutti i comuni ci versano nello stesso posto e quando c'è questa pioggia intensa l'acqua invece di andare avanti torna indietro e nonostante le nostre opere idrauliche che abbiamo messo in campo abbiamo ancora questa problematica. Questa è una delle emergenze da affrontare. E che non volevo lasciare in compiuto perché nonostante l'opera sia terminata adesso stiamo lavorando con la regione, con la Gori per trovare una soluzione definitiva anche agli altri territori del circondario. Quindi questo è uno dei problemi straordinari, ma il motivo essenziale della candidatura che quest'anno ricorrono i 150 anni della nascita di questo paese che viene fuori dall'unione di tre comuni nel 1867, l'11 agosto Sirico, Santeracimo e Saviano perché Saviano è una particolarità abbiamo addirittura due cimiteri, c'è ancora un'identità distintiva tra questa unione che è legata proprio a delle tradizioni straordinarie che avevano i nuclei originali. Quindi i 150 anni sono una data da ricordare e quindi volevamo essere partecipi di questo evento e fare il meglio di quello che si poteva fare con degli convegni e dei dibattiti culturali per chi è nata questa nuova identità e soprattutto dare spazio a chi ovviamente poteva ragionare facendo magari una monografia di questo periodo per vedere meglio le cose da farsi. Ecco intanto 5 anni di amministrazione, qual è il bilancio che consegnerà ai cittadini in questa campagna elettorale? Il bilancio nella fase iniziale di questa legislatura è stato straordinario perché immediatamente abbiamo ridato al paese alcune opere che erano ferme da molti anni e dal 2004 sostanzialmente perché io vengo da un'esperienza già passata e poi dopo il 2004 c'è stata un'altra amministrazione, due commissari e quindi abbiamo ripreso nel 2012, quindi siamo ritornati a lavorare su alcune opere che erano già in corso, un centro sociale diurno per disabili adulti che quindi abbiamo immediatamente consegnato in attività, un campo sportivo che era fermo con una serie di contenziosi e abbiamo di nuovo dato spazio a questa attività che non solo abbiamo dato spazio all'attività, è rinato il calcio a 11 e la squadra locale ha vinto il campionato addirittura e quindi noi in questo momento dovrebbe diventare una delle priorità per il futuro fare meglio ancora sul campo sportivo che è stata un'opera che è costata molto, che è stato oggetto di critiche che c'è stato sicuramente un dispendio economico che ovviamente legato a molti contenziosi che si sono verificati e quindi noi abbiamo dovuto sistemare questa cosa all'inizio della registratura nel 2013 e poi l'abbiamo consegnato il campo sportivo, un campetto a 5 che era fermo allo stesso, quindi delle opere importantissime dal punto di vista del sociale soprattutto da utilizzare per i giovani. C'era un'area sequestrata, oggetto di cosiddetto inquinamento straordinario che era stato bloccato, c'era un parco giochi che abbiamo dopo molte peripezie con l'ARPAC e con la struttura ambientale della regione portato a convivente un lavoro di bonifica totale e quindi oggi è diventata una grande area libera davanti a una scuola elementare che serve effettivamente per dimostrare che si lavora soprattutto in questi anni nell'ambiente perché abbiamo lavorato in questo settore in maniera molto forte abbiamo migliorato la raccolta differenziale, siamo quasi all'80% di raccolta differenziale abbiamo migliorato il decoro del territorio ma abbiamo soprattutto lavorato insieme alla regione e alla provincia per partecipare al progetto Terre dei Fuochi che mette in condizioni il nostro comune di avere una squadra che controlla quotidianamente il territorio e cerchiamo di evitare, c'è effettivamente abusivi con controllo delle camere questo è un aspetto importante abbiamo messo delle telecamere, delle centraline aggiuntive a quelle che già normalmente mette l'ARPAC per il controllo della qualità dell'aria quindi siamo soddisfatti di questa cosa anche se purtroppo i dati non sono soddisfacenti e quindi noi stiamo lavorando per vedere come mitigare questo rischio delle polvere sottili che non sono solo legate chiaramente al territorio ma sono le polvere sottili che arrivano anche con i cambiamenti climatici ma soprattutto con i rispostamenti del vento e quindi subiamo noi dei movimenti vorticosi da questo punto di vista stiamo lavorando anche al controllo della falda acquifera e quindi è un, diciamo, nell'ambiente, nell'attività ambientale noi abbiamo per esempio una problematica sui Reggi Lagni i Reggi Lagni abbiamo tre alvi che ci attraversano in lungo e in largo e quindi noi sui Reggi Lagni abbiamo dei progetti con la Regione per fare bonifiche costante e continue perché purtroppo sono posti dove è possibile fare sversamento abusivo e quindi c'è il controllo da questo punto di vista del Comune insieme agli altri soggetti che sono deputati alla verifica nell'ambiente, quindi noi ci abbiamo puntato tantissimo stiamo facendo insieme a tutte le forze dell'ordine il controllo del territorio per l'attività edilizia abusiva quindi c'è un meccanismo molto importante negli anni questa cosa è migliorata tantissimo abbiamo cercato ovviamente nell'edilizia privata che può dare bocco anche lavorativo tutte le cose possibili che sono compatibili anche con l'ambiente quindi le abbiamo incentivate in maniera da poter creare anche delle posti di lavoro abbiamo spinto le attività nel terziario, quelle che si poteva fare e abbiamo fatto tantissimi progetti per i giovani tante attività, tante questioni è nata finalmente la protezione civile comunale che è una cosa importante che abbiamo presentato pochi giorni fa quindi tante cose Intanto Sindaco ci sono tre avversari che la sfidano in questa battaglia elettorale che tipo di confronto si aspetta in campagna elettorale? Io mi aspetto un confronto leale innanzitutto le campagne elettorali sono sempre un momento particolare perché vengono fuori a volte le cose più negative del soggetto stesso che si candida e si espone invece io sono convinto che avendo creato noi un'aggregazione particolare abbiamo messo insieme delle forze che come dicevo all'inizio per l'esigenza straordinaria e per l'evento che ci vede protagonisti quest'anno la maggior parte dei candidati lavorano per migliorare il territorio e quindi credo anche gli avversari le altre tre liste che sono contro di noi praticamente lavoreranno per un confronto sereno e questo è l'aspetto principale che ovviamente quando si fa nelle campagne elettorali nel confronto la cosa seria è parlare dei problemi e non delle cose personali quindi mi aspetto questo tipo di confronto confidando chiaramente nel buon senso di tutti e che sia anzi un invito per tutti che sia una campagna elettorale al rispetto della persona essenzialmente e soprattutto nel tentativo tutti insieme di dare il meglio a questo territorio Guardando alla prospettiva di questa realtà Sindaco nel rapporto con i comuni dell'area Nolana Saviano che ruolo potrà avere secondo lei? Saviano ha avuto sempre un ruolo importante però questa volta il fatto che noi votiamo siamo diventati un paese al di sopra di 15 mila abitanti è la prima esperienza elettorale che facciamo col sistema proporzionale e sperando che la gente ovviamente capisca molto bene come si vota perché è un fatto importante D'altra parte noi nel ruolo di questo territorio abbiamo una centralità sempre ha avuto una centralità importante anche se collaboriamo con un sistema insieme tutti perché noi facciamo parte dell'agenzia dei comuni Nolani dove 18 comuni si confrontano costantemente e lavorano insieme per un progetto comune perché abbiamo insieme un progetto comune rispetto dell'ambiente ma essenzialmente rispetto all'agricoltura abbiamo un progetto comune sulla protezione civile sulla stessa terra dei fuochi ma abbiamo insieme all'area che ci circonda ovviamente l'idea di un progetto urbanistico unico sul quale noi vorremmo chiaramente confrontarci con la città metropolitana per evitare che ci siano dei vantaggi dei singoli territori proprio nel rapporto con la città metropolitana di Napoli che cosa deve cambiare secondo lei rispetto al passato? rispetto al passato deve cambiare che i territori soprattutto questi periferici che per anni hanno lavorato ad avere la città nolana per avere la provincia di Nola per sganciarsi dal centro e che oggi fanno parte importante della città metropolitana deve cambiare il rapporto che quest'area deve essere considerata protagonista e quindi le scelte non vanno fatte sulla pelle della gente ma vanno fatte confrontandosi con le amministrazioni tutte le amministrazioni del territorio dell'area nolana come un'entità straordinariamente positiva soprattutto anche dal punto di vista delle strutture ricettive delle strutture archeologiche il territorio è dotato di grandi risorse anche dal punto di vista turistico quindi potrebbe insieme alla città metropolitana chiaramente far sviluppare ancora meglio quest'area tenendo conto dell'identità dei singoli comuni sempre nel confronto straordinariamente insieme ecco per chiudere questa nostra intervista allora sindaco come convincerà i suoi concittadini a votare nuovamente per lei? questo io mi auguro che i cittadini siano già convinti e che ci sia poco da dire però per quello che riguarda io chiedo ai cittadini di rivotare per continuare insieme questo percorso perché io sono un sindaco a porta aperta quotidianamente nel senso che abbiamo fatto un'esperienza che per la prima volta questa legislatura da 2012 al 2017 praticamente è stata un'amministrazione di volontari tutti hanno lavorato come volontari anche i collaboratori che si sono messi vicino all'ufficio tecnico oltre agli amministratori quindi nessun amministratore ha preso un gettone di presenza per 5 anni nessuna indennità nessuna indennità né sindaco né i consigli di opposizione tutti hanno rinunciato per il bene del territorio è una bella pagina di politica per come oggi viene dipinta la politica agli occhi dei cittadini è davvero una particolarità è una particolarità sicuramente positiva che ovviamente nasce anche da un'esigenza le risorse sono molto limitate e un'aggiunta sui costi avrebbe chiaramente determinato un aumento dei tributi che noi cerchiamo quotidianamente di diminuire perché è un periodo straordinariamente negativo per la gente abbiamo grande difficoltà ecco uno degli aspetti seri, sociale che noi dobbiamo confrontarci quotidianamente con la gente che non arriva a fine giornata a fine mese che non può pagare la bolletta che non può pagare niente e quindi noi dobbiamo confrontarci con queste grandi esigenze e l'obiettivo è nel futuro di approfittare anche di fare il baratto amministrativo perché troppe persone non possono pagare i tributi e vorremmo tenerle impegnate per lavorare in questa maniera noi abbiamo anche le esigenze che abbiamo in questo periodo degli immigrati sul territorio quindi dobbiamo lavorare a un progetto di integrazione abbiamo due strutture ricettive che la prefettura ci ha un po' comesse sul nostro territorio e che quindi dobbiamo confrontarci con queste nuove realtà evitare che questi giovani, queste famiglie vadano in giro senza avere un percorso già stabilito e quindi stiamo lavorando con le parrocchie del territorio che ci collaborano costantemente affinché l'integrazione avvenga in maniera più serena possibile Bene, grazie allora Sindaco per questa intervista e naturalmente in bocca al lupo per questa sua sfida elettorale Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi